salve come saprete a volte quando andate ad aprire file come excel word se non avete un pacchetto office vi chiede automaticamente se volete comprare o provare il pacchetto office beh diciamo c'è una soluzione gratuita a questo che si chiama libreoffice che vi permette di aprire o modificare file excel o anche altri tipi di file ve lo mostro allora documento writer che vi permette di scrivere dei testi e anche esportarli in pdf poi abbiamo il foglio elettronico calc calcolatrice presentazione impress adesso non so come funziona disegno che io sinceramente di solito non li uso io uso calc questo va bene formula mat che non ho idea di come funziona database che pure non ho assolutamente idea ecco quello che uso spesso è calc che magari in un prossimo tutorial posso far vedere giusto le operazioni base perché io solo quelle conosco ecco per creare griglie di calcolo e cose del genere poi se volete una cosa un po più avanzata dovrete dare qualche altro tutorial si scarica semplicemente da internet libreoffice vediamo questa pagina ufficiale è completamente traduito e è legale e chiede scarica ora e appunto scarica la versione in questo caso serve aiuto in italiano comunque sia ci sono anche le istruzioni io adesso non lo scarico perché già l'ho scaricato mi sembra che è lo stesso che ho anche io 5.3.1 5.3.1 e niente è una buona soluzione per trovarlo appunto gratuito e al posto di spendere soldi con vari programmi office a pagamento vi consiglio libreoffice ci possiamo vedere per un altro tutorial magari faccio vedere un po' calc come funziona vi ringrazio come al solito della visione un saluto alla prossima